E' stata arrestata un'anziana donna coinvolta nello spaccio di droga. Scoperto un giro di droga in un quartiere bene della città, quando un bambino al parco giochi ha avuto un malore. I paramedici che lo hanno soccorso hanno capito dai sintomi che il bambino, a pranzo della nonna, aveva ingerito sostanze psicotrope assieme ad un piatto di pasta. Il bambino avrebbe infatti detto sono le tagliatelle di nonna Pina, un pieno di energia effetto cocaina. Per ora da Breaking News è tutto.